Buon pomeriggio a tutti, amici, amici di Mister lo Sport del Blogger, è appena finito il weekend dei motori e voglio fare due chiacchiere sulla meravigliosa gara di MotoGP e sulla vergognosa gara di Formula 1 della Ferrari hashtag binotto out, hashtag vergognatevi, una macchina da paracarro, una macchina da trattore, una macchina da schifo, una macchina da vergogna perché i piloti Leclerc e Verstappen vengono doppiati, vengono superati da tutti, doppiati da le Mercedes che stravingono che stravingono il Gran Premio con Hamilton e Van Napolio con Bottas e poi si permettono il lusso di doppiare per ben due volte Sebastian Vettel con Hamilton e Leclerc che arriva undicesimo e fuori dai punti, superato addirittura dalla McLaren del suo futuro compagno di squadra, Carlos Sainz, insomma una schifo di macchina, un'immondizia di macchina che va come un trattore, che va come un paracarro, che va come un bradipo e facciamo schifo quindi vergogna, Ferrari, Vettel e Leclerc sono disgustati e disperati perché non riescono neanche a tenere il passo delle macchine più lente del Circus e questa è una cosa vergognosa, non che una cosa gravissima perché vuol dire che questo inverno non si è affatto un'emerita mazza neanche durante la sosta e adesso si deve correre ai pari per evitare una stagione fallimentare anche se si corre con pochi Gran Premi senza rischiare di vincere nemmeno uno, ma di questo passo è lontanissimo, è un'utopia, è un sogno persino arrivare sul podio perché hai la macchina più lenta, più brutta e più inguidabile di tutte che i piloti non riescono a sfruttare neanche nel circuito più lento che è il lunga rolling che è il circuito uno dei più piccoli, uno dei più corti del Circus, uno dove si va alle velocità più ridotte figuriamoci nelle piste proprio veloci che immondizia rischiamo di vedere con questa macchina vergognosa hashtag vi notto out, hashtag vi a tutti, ma perché siamo veramente messi male parliamo invece della meravigliosa gara della MotoGP rovinata purtroppo dall'infortunio e qui voglio lanciare un forte in bocca al lupo, io non sono un tifoso di Mark Marquez però hashtag forza Mark, hashtag forza campione, torna più affamato che mai perché oggi hai dato prova di devastante superiorità così come Lewis Hamilton di una superiorità a dir poco imbarazzante che gli altri piloti dovrebbero mettersi la testa sotto un sasso e vergognarsi perché prima di rompersi, prima di fare un errore e di rompersi l'osso dell'omero e forse anche qualche problema al gomito, Mark Marquez ha prima sbagliato la curva la curva 4, quella del primo settore di Jerez ed è andato nella sabbia a fare enduro poi una volta arrivato nelle retrovie ha quasi superato tutti facendo il Pac-Man e recuperando quasi tutti, è arrivato anche su Vignales e poi è volato per aria, è sganciato e qui lo dico con il cuore in mano, da una moto di merda che è la Honda che spero che finalmente si renderanno conto che hanno anche loro un pisciaturo di moto perché ogni di quattro piloti che hanno, ovvero Marquez, Alex Marquez, Crash e Nakagami due sono già fuori uso perché Crash la presa una botta al collo è un principio di trauma cranico ed è stato dichiarato non percorribile cioè per non fare la corsa i medici gli hanno negato l'accesso gli hanno negato la licenza di correre il Gran Premio di Spagna il Gran Premio di Jerez e quindi Crash è stato dichiarato unfit quindi non poteva correre perché durante il warm up si è sdraiato si è sfraganato ed è finito per terra prima della gara e quindi è rimasto in box ed ha corso solo Nakagami nella gara successiva, nella gara stessa Mark Marquez si è sfraganato di brutto e spero che adesso finalmente la Honda si renda conto di avere un'immondizia di moto che in due anni, barra tre, ha sfraganato una quantità industriale di piloti ha sfaganato Pedrosa prima che si ritirasse l'ha fatto scappare in KTM ha quasi messo su una sedia a rotelle Jorg Lorenzo che si è fratturato alle verte per lo scorso anno e diceva tra le righe che era una moto di merda che non c'era modo di farla andare perché era inquidabile e ingestibile infatti basta vedere il fratello di Marquez che fa più schifo di Jorg e adesso tutti stanno riabilitando il mio Jorg per quello che aveva detto lo scorso anno ma adesso che anche il fenomeno Mark Marquez, il campione del mondo a cui faccio ancora gli auguri pronte a guarigione si è sfraganato forse è il caso che questa moto venga messa al bando perché veramente ha sfraganato tutti i piloti che ci sono saliti sopra e adesso ha sfraganato pure il campione del mondo pure il più forte pure il suo pupillo è stato disarcionato da una bestia da una belva che nessuno riesce a domare forse c'è qualcosa che non va in questa moto forse il telaio forse il motore è troppo aggressivo forse il telaio è troppo duro è troppo rigido non è guidabile perché se tutti i piloti si fanno male un motivo ci sarà e forse questa moto è una merda che fa volare in aria la gente perché non ci dimentichiamo che anche Takanakagami l'anno scorso si è fraganato le camiglie e camminava con le stambelle quindi dall'anno scorso a quest'anno e anche Pedrosa si sono fraganati praticamente tutti mancava mancava all'appello il campione del mondo Mark Markets che con le sue salvataggini ha fatto uno anche oggi ma alla fine non è che ti puoi sempre salvare ha pagato anche lui lo scotto ha pagato anche lui lo scotto di una moto di merda io lo dico con tanto dispiacere perché io sono un fan della Honda Repsol perché io corro a gioco MotoGP con la Honda però se vedo schifo di una moto che sta sfragrando tutti vuol dire che c'è qualcosa che non va per il resto prima vittoria di mamma mia il diablo mamma mia il diablo Fabio Quartarolo vuole salutare lo Juventino mascherato che che credo sarà contento ennesima vergogna per Valentino Rosso che continua a fare schifo mette la colpa alle gomme mette la gomma al caldo forse è il caso di cominciare a pensare che sia finita e forse è il caso di smettere questa vergogna di questa vergogna di finale di carriera perché purtroppo la MotoGP moderna non è più adatta a lui e non rischia di essere non adatta più al suo stile di guida con i giovani affamati che che sbavano che sbavano che hanno la bava alla bocca lui non riesce più con le gomme attuali non è neanche colpa della Michelin però con le gomme attuali sono per piloti un po' più un po' più estremi alla guida un po' più in fuori rispetto a lui e lui continua a fare schifo continua a fare schifo non degno di un 9 volte campionato del mondo per il resto abbiamo visto una bella gara del morbido Dovizioso è andato al podio Vignale si ha salvato l'onore Yamaha perché Quartararou è pilota del team Petronas altrimenti il team ufficiale veniva abbattuto dal team dal team secondario bene anche Miller bene anche Bagnaia finché ha retto bene la KTM con Paul e Spargarou Mane la Suzuki che ha fatto sfraganare Rins che si è fatto male e si è ritirata con con si è ritirata con Rins schifo l'Aprilia dove Albesiano ogni anno promette dice che la moto è buona che vedremo i risultati poi ogni anno immondizia e retrovie forse è il caso di mandare a casa anche lì come la Ferrari hashtag Albesiano out perché basta promesse vogliamo i risultati quindi questo è un rapido commento al weekend la domenica di motori perché mister lo sport e il blog guarda anche la MotoGP ribadisco hashtag forza forza campione hashtag forza marquez hashtag via binotto per la formula 1 hashtag Honda una moto di merda hashtag via Albesiano quindi se vi è piaciuto questo video anche di motori iscrivetevi al canale di mister lo sport e blogger e saluto lo juventino mascherato che abbia visto penso il weekend di motori ciao a tutti iscrivetevi al canale